Cominciamo dalla riete. Se avete in ballo qualcosa che ha a che fare con gli immobili, è il momento di darsi da fare. Avrete vantaggiose possibilità di vendere, acquistare o ristrutturare la casa. Vi muoverete tenendo i piedi ben piantati per terra. Toro, per non lasciarvi con l'amaro in bocca, le stelle di oggi vi propongono belle sorprese e novità. Energia positiva, progetti nuovi, desiderio di conquistare quella serenità che vi spetta di diritto. Gemelli, la giornata può essere considerata favorevole. Razionalità e spirito di osservazione viaggiano appaiati. Organizzate gli impegni in modo da conciliare sia il bisogno di isolamento sia quello di socializzare. Cancro, impetuosa e calda l'onda dell'affettività. Emozioni in primo piano con una gran voglia di vivere e trasmettere le vostre energie a chi avete vicino. Leone, non è semplice mettere ordine nelle idee che vi affollano la mente, ma con maggiore fiducia nelle vostre capacità ce la farete. Procedete a piccoli passi. Vergine, oggi sarà facile conseguire brillanti risultati a tutti i livelli. Il buonsenso messo a servizio dell'intuizione fornisce soluzioni adatte a superare qualsiasi difficoltà. Bilancia, la situazione economica è più instabile del previsto. Pianificate con cura le uscite, ma non fate in un assillo. Alla fine tutto si sistemerà come speravate. Distraetevi da eventuali preoccupazioni e date riposo alla mente. Scorpione, le stelle di oggi vi invitano alla comprensione e alla tolleranza. Le competizioni sono pane per i vostri denti, ma avete l'intelligenza necessaria per capire quando deporre le armi. Sagittario, il senso pratico e l'intuizione lavorano in buon accordo, aiutando a orientarvi nelle scelte e a proiettarvi con fiducia nei cambiamenti auspicati. Gli affari sono in pole position, investimenti azzeccati. Capricorno, oggi avrete costanza, volontà e tenacia. Qualità davvero ottime per costringere alla resa chi vi ostacola. Un lunedì ideale per portare avanti con impegno e determinazione le iniziative che avete in mente. Acquario, state procedendo come sulle sabbie mobili tra desideri inconfessati, decisioni sofferte e reazioni imprevedibili che minano il vostro benessere. Siate più ragionevoli. Pesci, tra conti e bilanci riuscite a tradurre in realtà i sogni. Pur senza rinunciare alla vostra autonomia, vi rendete subito disponibili e aperti alla collaborazione.